Oggi molte famiglie hanno deciso di andare a prendere prima i loro figli, come mai? Comunque per segno di protesta, questo è un piccolo inizio dove comunque non ci sentiamo di poter lasciare i nostri figli a mangiare in una situazione dove non è stata sanificata in maniera adeguata. Questo è il primo passo, poi ovviamente si pensava anche di non pagare la prossima retta scolastica perché abbiamo chiesto allarmi, abbiamo chiesto misure di sicurezza adeguate, promesse, 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 sempre rimandate e mai mantenute. Insomma continuate ad essere preoccupate? Siamo molto preoccupate per la salute dei nostri bambini e per la sicurezza dei nostri bambini. Abbiamo fatto un incontro dove ci avevano assicurato delle cose e queste non sono state portate a termine. Che questo asilo venga messo in sicurezza e che venga pulito a fondo, prendano una società di sanificazione, non vogliono chiudere, va benissimo, venerdì pomeriggio e tutto sabato hanno tutto il tempo di pulire la stanza di psicomotricità dove ci sono i tappetoni, dove i bambini rotolano, giocano, hanno in bocca, hanno tre anni, ci rendiamo conto, possono prendere qualunque malattia. L'importante è il bene dei bambini e mi sembra che non viene preso in considerazione. Anzi, quello che ci troviamo a fare, a perdere energie e tempo, è andare contro l'amministrazione che invece dovrebbe essere un nostro alleato. Quasi più di un mese ci hanno fatto tante promesse e nessuno si è mossa. Secondo voi sono importanti e necessarie anche le telecamere di videosorveglianza? Più delle telecamere, cosa possono mettere? Telecamere e allarme, dare delle informazioni più tempestive e sanificare meglio l'ambiente. Dopo l'ultima intrusione sono stati messi alcuni chiavi stelle, secondo voi sono sufficienti? No, perché sono molto piccoli e tra l'altro le finestre sono scorrevoli e quindi basta un semplice calcio o comunque rompere il vetro per poter comunque aprire senza problemi diciamo le finestre. Infatti anche in quest'ultima incursione non si sa da dove sono entrati perché non ci sono segni di scassinamento. Quindi non si può ancora una volta sapere con certezza da dove sono entrati e quindi capire bene il percorso che hanno fatto. Quindi a maggior ragione ribadiamo che va sanificato tutto l'ambiente e non solo la cucina come hanno fatto l'ultima volta. Siete stati avvisati in tempo? No, non siamo state avvisate in tempo perché noi avevamo chiesto precedentemente comunque di poter avere almeno un cartello all'ingresso dell'asilo, della scuola materna, dove praticamente veniva scritta una eventuale ennesima incursione e anche questa volta invece non è stato appeso alle 7.45 della mattina ma bensì dalle 8.15 in poi perché le maestre arrivano alle 8, le bidelle alle 7.75 e non hanno comunque l'autorità per poter prendere queste decisioni. Anche lei oggi ha deciso di andare a prendere suo figlio anticipatamente, quindi un modo per protestare? Sì, è una protesta perché vediamo che con tutte le richieste fatte da tutti i genitori vediamo che poche cose vengono fatte. Ecco, io mi stavo vedendo anche in questo momento, c'è dentro, non so se c'è un falegname, ma io l'ho fatto a 20 anni, insomma, il falegname sta mettendo dei chiavestelli così fini fini che con una botta, insomma, che li porti via. Sì, è una protesta, ma non tanto per noi, ecco, è per loro, per tutti i bimbi mangiano lì e c'è una preoccupazione. Non stiamo sentendo anche noi, io con la mia compagna, insomma, un avvocato per vedere perché, che per me, insomma, va fatto qualcosa di forte, ecco, perché se no non si smuove niente. Sua figlia frequenterà ancora per pochi mesi l'asilo, però, insomma, ci tiene ad essere qua per protestare? Esatto, sì, ci tengo, anche perché comunque sia, anche negli anni indietro è stato, comunque sono entrati, però non è mai stato detto niente. Per quanto sia, mia figlia ha ancora due mesi, qui dentro ci deve mangiare, ci deve giocare, cioè, pretendo che comunque venga fatto qualcosa. È una cattiva pubblicità anche per la scuola Manfrini, perché io personalmente, se sento una pubblicità così, non so se l'anno prossimo mio figlio lo inserisco in questo asilo. Grazie. Grazie.